Uè ragazzi praticamente... Uè ciao siamo andati a mare No che siamo arrivati, ce ne stiamo andando la mare Siamo andati, non certo siamo arrivati Siamo andati, guarda di chi c'ha bello Se mettono così il telefono da capo Guardate qui sono i capelli I capelli che sono Riccia e naturale Riccia e naturale ragazzi Come Tom Comunque siamo andati a mare E... Siamo scordati di mettere la micro Si è scordato Di mettere la memoria All'altra, l'autocamera L'autocamera io l'ho portata in giù ricordata Però lui non l'ha caricata Poi stando a mare non puoi far vedere il cellulare Se no... Lo scippano Lo scippano, hai capito? E' bene ma andiamo che ci prepara la roccia Cos'è come riuscita Tu l'hai deciso quindi Vole così Cos'è frutta la pavosa? Si ricordi laurenti che faceva la pavosa No come è che mi piace? Eh... Bruttissimo, ciao! 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 Vedo che stai spaventando in questi giorni Eh ma se te ne vieni da dietro Com'è? Se te ne vieni da dietro che sei dentro il viso Wow! O fai rumori nel sursi Farebbe? Ti fai rumori Natami Natami di questi tumori Eh? Natami Che... Dammi dimmi Mentre io sto facendo dichiarci Tu hai rumori dall'altra parte E sembra che se tu hai rumori Ti fai rumori dall'altra parte Oh! E' un po' Che tempo! Che tempo! Che c'è la rettina E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Ma tu hai fame? Tu hai visto che ci saranno con il cervello Qualche cosa? Quando ti dice l'anno E' un po' 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 Beh Dovevamo uscire stasera Però poi... Poi... Il tempo che siamo arrivati Siamo... E' un po' Eh, oggi ti metti proprio Guardate lì No, non so Così Praticamente E' un po' 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 Si trova Si trova... Non dica due passi da casa mia Però... Si trova con la macchina Di fare tutto il giro Per poi rientrare A Taranto Vecchio E' un po' 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 Un po' E' un po' E' un po' cioccolato bianco, latte e nocciola, ora dammi la mandata perli, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua verruga, vai, tutto questo è quello che si ha, no c'è la linea qua, madonna mia, si vedono, allora teniamo latte, mandorlato, uno bianco, uno con dentro, ah così vuoi fare, lo vuoi fare è tipo se ti viene doppietta, ok dai chi inizia, dai inizio io dai, tu devi chiedere gli occhi eh, allora uno due, uno due tre, no visto che sono assai che si calano la mano così, no si senti il nocciolato, no si, no, non è che devi dire, si fa il numero, non è che si deve, no, non mi piace, devo fare il come si dice il, allora il primo è di là, e l'ottavo è di qua, va bene, girati, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi con la fotocamera, con la fotocamera, ciò che viene si mangia eh, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, ok, cos'è? All'altro, ora tu, aspetta però fammi, bravo, ascoltami, guardami, 1, 2, 3, 4, da 1 a 4, vai, L'altra volta tu con la papagna dicessi due, e io dico due, no, un capelli, un bianco, ma no, che cacata, però tu hai detto, che se ci fai il bianco, è pure a me, ma no, non l'hai detto tu, ma neanche tu l'hai detto mo, vabbè, ma te l'ho detto a te, ci fai la passita, c'è qualcosa che mi scorcia per resti giù che a me, ah tu non lo vuoi tu, si, me lo sono messo qua, così qui, ma ora lo porti tu dentro, no, lo porti tu dentro, già ho preso il bianco, che deprimente, vai, lo tengo io, vai, Non ti fai nessun effetto, eh, intanto te l'ho detto io con la buccia, non ti fai nessun effetto, non ti fai nessun effetto, di ricogliar, eh certo, perché tu sei orgoglioso, vediamo come mangi il bianco, Vedi anche lì, no, che è un burro, un panetto di burro sempre, il kit, il, come si chiama? Hai voluto fare la sfida, il galak, non lo fanno qui il galak, si, hai voluto fare la sfida, Siamo a Ninna, ragazzi, vabbè si vede, siamo a letto, si vede, come ogni sera, facciamo sempre questa chiusura all'occhio, io credo che sia ora di finirla, di fare queste chiusure in camera, allora prendi l'iniziativa e farle tu, prendi l'iniziativa su tutto io, ieri e mantieno l'abbiamo fatta in cucina, e che fai con la faccia brutta, ma già sei brutta normale, te stupida, c'è veramente, lenci falogramma, lenci falogramma, come si dice? no, che tu hai incispicato, io incispico quando voglio, fatti vedere, vedi una colombina, una colombina 220, perché 220, colombina 220, non lo so, perché colombina, colombina, celestina, e celestina non è colombina, ma la colombina ci sta bene con celestina, e celestina 220, ha scopato il letto, che non c'è niente come un cuccianese, ha scopato il letto, no, guarda, non lo so, ha metto solo acqua, forse, forse, sai cos'è il cioccolato bianco, che è la cazzese, l'ho colpito sul pollice, mi hai graffiato sul collo del piede, non ti si vede? e sei tu che devi fare con la luce, non io, non lo so, stai più straiato, stai più comodo, stai più comodo, stai più comodo, vedi, c'è pure il braccio così, e comunque, comunque, è brutto, no ragazzi, avevo tanto sonno, siamo andati a mare oggi, non si vede proprio, non si è neanche affronzato, il sole a lui ho fatto vedere, si è messa di sotto il sole, era verde, cioè il sole se n'è andato, è vero, io con tutto che mi sono messa al sole, non mi sono mica affronzata, forse, un po' il viso, però il viso prende il sole quando aspetto il primo la mattina, però le braccia, il corpo, non mi sono per niente affronzata, eppure sono stata sotto il sole, vabbè, oh te la finisci, che fai male, a me ragazzi, iscrivetevi, commentatevi, condividete, mentre non mi piace, ciao, ciao, ciao buonanotte,